Il voto complessivo di questo articolo di Adama è di 8.2 su 10. È il più desiderato. I suoi pregi sono. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Assorbenza. Comodo. Stile. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. La valutazione finale assegnata a questo articolo di Fito è di 8.8 voti su un totale di 10. Risulta essere il più esclusivo di questa selezione. Un ottimo prodotto, che si caratterizza per un'elevata qualità, sicuramente una delle migliori soluzioni per questa tipologia di articoli. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di Dove Portland LTE di 8.4 su 10. Questa è la nostra scelta migliore. Si tratta di una delle opzioni di acquisto più diffuse e apprezzate dagli utenti, come testimoniano le recensioni più che positive da parte di chi l'ha provata. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Questo prodotto realizzato da Flower ha conquistato una votazione di 6 su 10 punti totali. Risulta al momento essere il più venduto. È un prodotto di riferimento che svolge pienamente il suo compito, è sicuramente uno dei migliori articoli disponibili sul mercato. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video.